Tenti che c'è la prova video Sola, preparati! Sola, preparati! Sola, preparati! 23! Sola, preparati! Non ho letto! Presta da sinistra 4 e 3 Da sinistra 4 e 3 E si troviamo in prima Quattro pari! Quattro pari! 5 hai fatto! E 4! E 4! Quattro sono? E 4! E 4! Profondità, Maghita! Sonia! 5 e 7! 6 e 7! A 2! 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 Si! Ma non è già finito! Que lui va a tener il premio finale! 4 e 6! 9 e 6! 9 e 6! 9 e 6! 9 e 6! 10 e 6! 10 e 6! Deve! ora! la balla è ottima! match ball a casa Domenico, calma match ball ciao mamma